Corso Garibaldi si illumina per San Valentino. L'iniziativa dell'Associazione Sviluppo Aeroporto ha riscosso molti consensi tra i cittadini e gli abituali frequentatori della zona e oggi, nella giornata dedicata agli innamorati, non mancheranno menu speciali a pranzo e a cena. Dopo il riscontro positivo dell'iniziativa dei luminari in Corso Garibaldi, qual è la proposta per la giornata di San Valentino? La giornata di San Valentino è il corso dove sono presenti tutti i migliori ristoratori, pub, vinerie e quant'altro, proporranno sia a pranzo che a cena dei menu dedicati alla festa di San Valentino. Quindi invitiamo tutti gli innamorati a venire a degustare i nostri menu e magari a godersi le luminari che abbiamo messo apposta per loro. Grazie.